Nella puntata di oggi parleremo di quello che è il ruolo, la responsabilità dei genitori nei confronti dei propri figli. Leggendo sempre dall'Epistola agli Efesini, come abbiamo fatto le ultime due volte, al capitolo 6, versetto 4, afferma «E voi, padri, non irritate i vostri figli, ma allevateli nella disciplina e nell'istruzione del Signore». L'Apostolo Paolo mette in evidenza quello che è il ruolo, la responsabilità dei genitori, del padre, nei confronti dei propri figli. Non è certamente facile essere genitori. Qualcuno ha detto che essere genitori è una missione e naturalmente nessuno nasce già con l'esperienza. È importante però seguire quelle che sono le indicazioni della parola di Dio, indicazioni che sono semplici e chiare allo stesso tempo. È importante seguire quello che la parola del Signore afferma. Qui l'Apostolo rivolge un consiglio che in realtà mette in evidenza un po' quello che è il ruolo del padre, dei genitori, verso i figli. Non irritate i vostri figli, ma allevate l'indisciplina e nell'istruzione del Signore. Innanzitutto il sentimento che muove un padre dei genitori deve essere l'amore, il rispetto, in modo che i figli, nel vedere questo, non si irritino e possano accettare quella che è la correzione, quello che è l'insegnamento, quella che è l'educazione impartita dai genitori. Poi dice anche l'Apostolo, ma allevateli nella disciplina. Allevare è un termine che può suonare strano, come una stonatura, ma in realtà allevare è un bel termine, perché indica quello che un padre, dei genitori, devono fare verso i figli. Devono provvedere tutto il necessario per la loro educazione, per la loro formazione, per la loro crescita, per il loro sviluppo spirituale, morale. E quindi è importante che i genitori sappiano allevare con disciplina, cioè nel giusto modo. E il miglior modo è essere per i figli degli esempi. Infine il testo dice, nell'istruzione del Signore. Come a dire, i genitori non devono istruire i loro figli sulla base di quelli che possono essere i propri stati d'animo, quelle che possono essere le situazioni che stanno vivendo, o su quella che è stata la loro esperienza come figli. Un genitore cristiano istruisce i propri figli secondo quella che è la volontà di Dio. Secondo appunto l'istruzione del Signore, secondo quello che la scrittura, la parola di Dio insegna. È vero, nel terzo millennio non è facile essere genitori. La nostra società non fornisce dei punti di riferimento saldi, ma la parola di Dio rimane quella pietra miliare alla quale vogliamo rifarci. in modo da poter camminare e agire e istruire i nostri figli secondo i parametri della scrittura. La meravigliosa e intramontabile parola di Dio.